Salve ragazze, questa volta un video molto molto veloce per quanto riguarda i prodotti MAC che ho acquistato iniziamo con dei prodotti che sono nella linea permanente e questo è il plumage mi scuso in anticipo per lo smalto ma oggettivamente non posso cambiarlo perché ho degli spacchi quindi non posso utilizzare il leva smalto, l'ho detto anche in un altro video per ora è così, poi vedremo è questo colore, vediamo se riesco a farvelo vedere molto molto bello, completamente opaco, scrivendo al primo colpo e questo è il prodotto molto molto bello altro prodotto in linea permanente di cui non so perché non ho ottenuto la scatola e mi dispiace però ve lo voglio far vedere lo stesso soprattutto perché io non ho una grande intesa con il mascara della MAC ma questo l'hanno riformulato è il mascara doppio quello per definizione e volume e la colorazione la più nera perché ci sono due tipi di nero e poi se non ero c'è anche un blu e un marrone ed è tutto black lash ed è quello che se tirate su qui avete uno scovolino e se invece lo richiudete non provate ad aprirlo separatamente perché si rovina, l'ho già sperimentato se aprite tutto insieme invece lo scovolino è più denso il colore è bello nero neanche a dirlo ha solo la pecca che è un po' tosso da togliere comunque un ottimo prodotto ovviamente questo sta intorno ai 23-24 euro il refill come al solito intorno ai 14 e poi matita questa è la follow your heart con il mio fantastico inglese anche questa dovrebbe entrare in linea permanente adesso la ho trovata nell'espositore con i vari rossetti perché hanno fatto le matite abbinate ai vari rossetti quindi hanno riproposto questa che se non erro dovrebbe essere abbinabile all all far it up si sposa anche bene con i vari rossi se non erro però è fatta proprio per mac red forse e poi c'è appunto la versione se non erro di matita di heroine è uscita la versione in matita di ruby w insomma sono uscite un pochino di cyber un po' di matite interessanti tra l'altro vi dico solo che se cyber volete prendere la matita di cyber ricordatevi che mac faceva già delle matite molto scure per le labbra che se riesco vi prendo e vi dico quindi invece che prendere cyber ricordate e guardate se avete anche questa qui che sono dei colori molto molto simili ve la risvuoccio qualora qualcuno non la conoscesse e queste sono le due matite tra l'altro sul sito anzi su instagram scusate di le donne vengono da marte vi ho fatto vedere quanto in realtà siano simili la matita follow e il matitone invece della neve il due baci nella versione appunto matitina piccola quindi non il matitone ma matitina piccola vediamo se si nota anche in video in video sembra leggermente più caldo in realtà è dovuto solo al fatto che il tratto è più grande ha proprio un gioco di luci però secondo me è molto molto simile guardate ho continuato lì dove eri finito e sembra solo leggermente più caldo ma dal vivo la differenza è impercettibile poi i due prodotti invece a edizione limitata presi onestamente principalmente per il packaging perché erano bellissimi quando sono usciti queste due edizioni limitate quindi la baobao e la toledo io avevo già deciso di prendere qualche cosa e per quanto io sia fan del back to mac questi rimarranno insomma custoditi gelosamente guardate questo è il packaging del rossetto che tra l'altro oggi mi hanno già detto che è andato fuori produzione è andato esaurito guardate è quasi duo chrome con dei riflessi veri ricorda ecco ricorda club come colore come colore di packaging e invece il colore principale appunto è il lavender jade matte che è questo qui tra l'altro io ci abbino tranquillamente la matita invidia che abbino anche con up the amp e mi va benissimo un colore spaziale veramente molto 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 bello e terrò anche la famosa scatolina molto 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 bello niente da dire e poi ho preso il blush abbinato che è azalea blusum e anche questo niente da dire sulla sia sulla scatola che dentro poi a sua volta dei diciamo dei ghirigori ma guardate quanto è bello questo prodotto molto belle anche le le palette e questo pur non avendo lo specchio è il colore fantastico questo lo potete utilizzare mescolato lo potete utilizzare separatamente l'unica cosa che vi dico è che preso e sbocciato sembra meno scrivente rispetto a quanto poi non lo sia realmente sul sul viso quindi fate attenzione che se andate ad abbondare con il pennello poi vi fate la chiazza e questo invece ad esempio a Porta di Roma è ancora disponibile questo è tutto veramente un video molto molto veloce però spero comunque di avervi dato degli spunti interessanti fatemi sapere se prendete qualcosa se comunque vi intriga la collezione quanto siete schiave del packaging ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti